Lui fa cosplay da 92, pensate ragazzi. Ha visto nascere l'espo Gartuni. Cosa hai da dichiarare? Ti danno l'espo Gartuni, io non mi chiedo tanto. Va bene, presentiamo. Belle parole, davvero belle parole. Ok, siamo d'accordo con te. Allora, vuoi presentare tu il numero 7? Ci leggi? Allora, abbiamo Marina e il suo personaggio è Aggiuta. Da che è Yon? Ricco applauso. Anche la bestia vuole i più applausi. A tutti i più applausi.